Un cordiale buongiorno da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di veicoli in avaria si registrano 4 chilometri di coda rispettivamente tra Firenze Sud e in Cisaregello in direzione Roma e tra Firenze Nord e il Bivio con la variante del Valico in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna ma a causa di lavori e del traffico intenso code a tratti tra Valdarno e Firenze in Pruneta con lo svincolo di Firenze in Pruneta chiuso in entrata e in uscita. In Fipili a causa di un incidente ancora 3 chilometri di coda tra San Miniato ed Empoli Ovest con code in entrata e in uscita ad Empoli Ovest in direzione Firenze. Due chilometri di coda per lavori invece tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna ancora in direzione Firenze. E per il momento è tutto, muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Città Metropolitana e Comune di Firenze